ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture vi saluto tutti care anime davvero di cuore grazie a tutti quanti gli iscritti a tutti gli abbonati e tutte le nuove persone che seguono questo canale grazie veramente a tutti vi rinnovo l'invito chi non l'avesse ancora fatto a fare l'iscrizione a questo canale tramite il tasto iscriviti e di attivare poi successivamente la campanellina cliccando su tutte così vi arrivano sempre le notifiche di quando pubblicherò dei nuovi video allora care anime vi invito a leggete sotto la descrizione del video perché spiego come funziona questo magnifico contenuto ma lo metto sempre comunque in tutti i video e anche le modalità per parlare con me che c'è da andare sul sito comunque sempre quinta dimensione letture punto it chi vuole acquistare gli accessori gli oracoli creati da me chi vuol fare delle consulenze dei percorsi spirituali trova tutto appunto sul sito web mi raccomando andatelo a vedere allora questo fa parte oggi di diciamo di quei contenuti proprio per la crescita molto forte ed è appunto un codice sacro sapete che questo canale promuove assolutamente nella luce tutto quello che è crescita consapevolezza energia e è un canale di crescita di studio va bene e questo è molto importante anche il sito web lavora insieme a questo canale youtube quindi vi invito chi è veramente interessato a diciamo visionare eventualmente i contenuti sia del sito che anche di questo canale youtube perché vanno in simbiosi questo decreto apre le strade dell'abbondanza l'abbondanza come spesso dico nei miei video sapete bene che non è solo il denaro l'abbondanza nella vita è una serie di meravigliose benedizioni di cose che ci vanno bene persone che ci vengono donate persone accanto a noi eventi il lavoro della vita cose belle che ci possono capitare e anche il denaro le case l'abbondanza è riuscire nel diciamo attuare quello che vogliamo l'abbondanza è una vita bella piena di serenità no ovviamente anime sappiamo che tutto al cento per cento comunque molto difficile su questa terra però tanto tantissimo è possibile tantissimo cercare di vivere questa nostra esperienza terrestre questa nostra esperienza terrena nel modo diciamo più più piacevole possibile va bene senza traumi o comunque cercando di guarire i traumi questo codice sacro ci aiuta molto nell'aprire proprio le strade dell'abbondanza e ripeto lo facciamo in generale non c'è bisogno di fare prima un desiderio particolare semmai lo pensate pensate alla vostra situazione a quello che volete sistemare ma diciamo che lavora già di sé con le energie già predisposte da questi numeri in sequenza che sono e già lavora comunque dove c'è bisogno io dico sempre anche questo è un contenuto di crescita quello che vi sto per dire non c'è bisogno per forza di impostare perché quando noi impostiamo non siamo sicuri che sia la cosa adatta a noi che sia la cosa che ci fa veramente bene che quello che desideriamo sia veramente per noi noi non possiamo avere questa certezza perché siamo terrestri il piano divino non è detto che sia quello che noi desideriamo qua quello che stiamo pensando in questo momento quindi direi che il modo migliore per fare questo tipo di lavoro spirituale personale è sicuramente lasciar fare all'universo e al divino che ha comunque un piano va bene quindi lo facciamo facciamo la anche l'invocazione che dopo vi metto quindi la preghierina diciamo iniziale come funziona il codice sacro va fatto per se stessi non va fatto per gli altri escluse pochissime eccezioni perché non possiamo modificare il percorso terreno di nessuno ma possiamo migliorare il nostro ci sono pochissime decreti o preghiere che ho messo fate un giro nel sito anche qua sul canale youtube che si possono fare per altri quindi fate fare ognuno anche se li vogliamo tanto bene e ci dispiace perché magari è in una situazione particolare ma non possiamo intervenire possiamo magari chiamare la luce che vada verso quella persona invocare le sue guide dei suoi angeli ma non possiamo modificare il percorso terreno questo deve essere chiaro va bene chi lo fa pagherà le sue conseguenze questo deve essere chiaro perciò questo è un decreto che dovete fare per voi aprire le strade all'abbondanza ma voi rispondete per voi solo per voi quindi questo è un decreto che va fatto prima una volta con la preghierina di apertura e poi a seguire per 45 volte il numero del codice sacro potete farlo da soli in qualsiasi momento della giornata volete basta una sola volta al giorno non va fatto tre volte cinque volte per esempio come le parole magiche questo è il codice sacro una volta al giorno quindi ripeto perché ancora c'è chi non ha capito l'apertura la frase iniziale va fatta una volta e poi il codice sacro 45 volte va bene tutto questo una volta al giorno una volta finito potete farne un altro magari c'è chi ne fa 45 poi fa due codici sacri e fa tre decreti potete farli tutti in sequenza lo cominciate uno lo finite e cominciate un altro lo finite e via dicendo questo sì questo si può fare nel modo più assoluto va bene fatelo per voi apriamo le strade all'abbondanza perché c'è chi comunque fa già decreti e ancora magari vede un po ostica la strada proviamo con un altro ancora perché non è per tutti uguale non è per tutti giusto quel decreto lì magari va bene per diecimila persone e quelle mille no quindi fate anche voi un po di sperimentazione anche questa è crescita quindi vi leggo prima di iniziare questo codice sacro un po il significato cioè che cosa stiamo facendo l'ho messo ultimamente in un post della community di youtube l'ho messo anche sui miei canali su facebook per esempio dove spiego un pochino la ripetizione quello che vi sto per dire vale sia per i decreti quindi il decreto parlato e recitato quello lungo quello non numerico quello lungo tipo io sono per esempio no dove lì facciamo solo affermazioni verbali e parole non numeri quindi quello va bene per il decreto quello che sto per dirvi e anche per questi codici sacri ve lo ripeto perché è stato molto molto bello mi avete scritto in molti ringraziandomi proprio per questa diciamo questo chiarifica questa chiarificazione perché è un codice un decreto che comunque va a smuovere delle energie quindi capiamo che cosa stiamo facendo perché dobbiamo sapere gli studenti spirituali chela chiamati anche dai maestri ascesi devono sapere che cosa stanno facendo non basta perché lo dice aura o lo dice tizio lo dice caio dobbiamo seguire come un pappagallo sperimentate sempre la verità sperimentate sempre da voi da voi stessi cosa vi funziona cosa non vi funziona va bene non siamo tutti uguali non abbiamo tutti lo stesso percorso allora vi leggo quello che ho scritto che molti già hanno letto pronunciare un decreto più di una volta ne moltiplica ulteriormente l'effetto quindi anche un codice sacro è man mano che il decreto viene ripetuto le onde sonore si rafforzano e la vibrazione si intensifica la ripetizione ritmica delle parole genera onde di potere a cascata proprio come le onde di luce vengono amplificate nella creazione di un raggio laser un raggio laser può bruciare il metallo solido allo stesso modo una corrente di suono ritmico prodotta correttamente può trasmutare la materia fisica e dissolvere la densità e la discordia questo viene ovviamente dalla summit publication ponte la libertà che ha dato molti decreti sia dei maestri ascesi moltissimi libri è un veramente una solida struttura da prendere veramente seriamente una delle poche insomma perché adesso sono nate diverse insomma tutte strutture nuove adesso nella nuova era sono nati tutti sono tutti i sacerdoti sacerdottese insomma c'è da stare molto attenti perché adesso ci sono tanti truffatori come c'erano una volta ci sono ancora anche se man mano la luce li sta spazzando via gli oscuri tanto saranno comunque spazzati via questo è poco ma sicuro questo de questo codice sacro lo metto nella playlist decreti codici sacri parole magiche quindi l'avete tutti in fila chi non l'ha ancora visti li vada a vedere scelga quello che secondo lui gli serve in quel momento va bene allora un'ultima cosa 21 giorni allora 21 giorni va benissimo cioè diciamo che è il minimo perché va ad agire in profondità nel subconscio diciamo che è un tempo necessario no del quale abbiamo bisogno proprio per farcelo entrare dentro veramente 21 giorni quindi minimo ma io consiglio a tutti di iniziarlo contare fino a 21 in modo che siamo sicuri che lo abbiamo fatto almeno 21 volte e continuare fino a che la situazione non si sblocca può essere un mese 2 3 4 5 6 mesi la fede la convinzione e il giusto lavoro la giusta tenacia nel continuare a farlo porterà il successo porterà il risultato quindi adesso ci concentriamo qualche respiro e iniziamo prima con la nostra richiesta di apertura e poi a ripetere il codice sacro per 45 volte alla fine vi metterò tre messaggi di link poi dopo dico poi quale scegliere partiamo e quindi facciamo appunto l'invocazione prima dopo esserci acquietati dopo aver fatto qualche respirazione profonda chiediamo prima di partire a recitare questo codice sacro bellissimo facciamo diciamo una richiesta una preghiera iniziale questa richiesta va fatta solo una volta poi si ripete il codice sacro per 45 volte universo angeli ed esseri di luce in in armonia con tutto il mondo sotto la grazia e in maniera perfetta io credo di aprire le mie strade dell'abbondanza grazie 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 691 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 69 691 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 69 691 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 69 691 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 79 Rush Break 691 691 691 molto bene leggete la descrizione del video così vi ricordate un po le cose che vi ho detto perché sotto metto un sunto però i video vanno ascoltati tutti mi raccomando perché ci sono le spiegazioni allora poi come è successo negli altri decreti e codici sacri andate a scrivere poi nei commenti i vostri risultati le vostre sensazioni quello che avete sentito provato come sta andando leggete anche sotto gli altri che abbiamo tante testimonianze allora adesso caranima ti invito a scegliere tra i miei messaggi divini che è il mio oracolo una delle mie creazioni la carta numero 1 la numero 2 o la numero 3 ti invito a scegliere uno di questi numeri o anche 2 al massimo su 3 e vediamo quali sono i messaggi in questo momento qui e ora da portare alle persone che ascoltano allora vado con la carta numero 1 che ha scelto il numero 1 e vediamo qual è sei sulla giusta strada e tutto è nel perfetto ordine divino 500 550 manifesterai abbondanza guardate che roba è arrivata la carta dell'abbondanza su un decreto per l'abbondanza io chiudo tra l'altro bellissimo proprio veramente andatevi a vedere sotto nella descrizione del video c'è la playlist dei numeri degli angeli per andare a vedere questi numerini qua il 5 lo 0 lo 00 55 no perché comunque abbiamo dei messaggi anche tramite numerologia questi sono numeri degli angeli ma la cosa bella che ti sta dicendo qua è che manifesterai abbondanza la strada è giusta se ancora non sei arrivata o arrivato a quello che desideri sappi che tutto è nel perfetto ordine divino non c'è sbaglio non c'è errore tutto è come deve essere manifesterai abbondanza quindi qui proprio è una cosa incredibile perfetto perché abbiamo detto ora è allora adesso andiamo con la carta numero 2 chi ha scelto la 2 vediamo un po tutto ciò che accade è una proiezione di ciò che sei e pensi 1551 sforzati nel fare bei pensieri qua abbiamo da lavorare un pochino più sulla manifestazione su quello che andiamo a dire che pensiamo perché quello che pensiamo è quello che manifestiamo vai a vedere nella playlist numeri degli angeli significato dell'uno del 5 del 55 del 15 del 51 lo metto in descrizione il link diretto così puoi andare a vedere il numero che ti interessa perché ha un significato angelico quindi attenzione perché noi proiettiamo esattamente quello che pensiamo e quello che pensiamo diventiamo quindi attenzione quello che facciamo diventiamo quello che diciamo diventiamo sforzati nel fare bei pensieri qui è richiesto un lavoro per sistemare un pochino quello che andiamo a dire andiamo a fare qualcuno magari è andato a finire in un vortice pazzesco che non riesce più a staccarsi da questi pensieri che ha queste profezie autoavveranti distruzione catastrofi e andiamoci piano perché poi succedono è quindi cerchiamo di sistemare i nostri pensieri la carta numero due deve stare attento a quello che dice e a quello che pensa sforzati dice sforzati fai pensieri belli se proprio è dura cerca di aiutarti con le immagini con la musica vedi solo tutto ciò che è piacevole quando senti che ti sta per prendere quel momentaccio lì mettiti a sentire i 432 hertz i 528 hertz guardati delle immagini che ti piacciono fai quello che vuoi ma cerca di distogliere l'attenzione diciamo da quella cosa negativa che sta nascendo in te facendo l'opposto quindi qualcosa che ami qualcosa che ti piace vediamo adesso la carta numero tre stai ricevendo indicazioni su come procedere attraverso pensieri sensazioni e visioni 10 10 0 1 0 1 che è un codice galattico pleiadiano gli esseri di luce sono al tuo fianco quindi qui abbiamo una persona all'ascolto sei scelto la carta numero tre che sta ricevendo proprio indicazioni ti stanno dicendo cosa fare cosa pensare delle sensazioni che ti arrivano delle visioni qua abbiamo delle indicazioni gli esseri di luce sono al tuo fianco è una conferma per te bellissima perché abbiamo questa conferma appunto di vicinanza di aiuto verso di te che stai ascoltando che hai scelto la numero tre e ci sono queste indicazioni quindi stiamo un po attenti qua a capire quali sono perché qui ci sono queste indicazioni ma dobbiamo essere bravi anche a capire i messaggi che ci mandano perché ci sono qua pensieri sensazioni e visioni sono cose che ti sono mandate quando tu trovi questo video è sempre valido quando ti ritrovi ad ascoltare il significato di questa carta di altri che hai scelto è sempre valido in qualsiasi momento anche se trovi questo video fra un anno va sempre bene quindi questo era il messaggio per la carta numero 3 a chi piace questo oracolo guardi la descrizione del video così vede come si può acquistare grazie mille anime a tutti quanti per questo video terminato fatemi sapere sotto nei commenti poi le vostre sensazioni i vostri pensieri come sta andando fatemi sapere per come succede già negli altri video e negli altri commenti sotto i codici sacri e i decreti eccetera quindi grazie mille anime per questo video terminato vi aspetto presto con altri contenuti qui su quinta dimensione letture grazie a tutti ciao a presto